Stato di agitazione dei lavoratori di Tua, la società regionale dei trasporti, per i sindacati è arrivato il tempo del rilancio, presentato ad aziende regione un documento sulle questioni ancora aperte. Buongiorno dal telegiornale dell'Abruzzo, i lavoratori della Tua, l'azienda regionale unica di trasporto pubblico, sono disposti a scioperare. Dopo il sacrificio è necessario pensare al rilancio, hanno detto i sindacati che hanno presentato un lungo documento con tutte le questioni ancora da risolvere. Mariano D'Amico. Abbiamo condiviso con la società e con la stessa regione la politica dei due tempi, accettando prioritariamente di mettere in sicurezza la società e di consolidare i conti di bilancio. Ora ci aspettiamo alla seconda fase che è quella dello sviluppo. Stato di agitazione dei lavoratori di Tua, la società regionale unica dei trasporti, i sindacati hanno avviato le procedure di raffreddamento e conciliazione per richiamare l'attenzione di aziende e regione su questioni rimaste ancora aperte. Dall'insufficienza all'inefficienza del parco auto, dallo stato di abbandono di alcune sedi alla situazione delle officine, dalla mancata realizzazione di una politica per combattere l'elevazione terrifaria alla carenza di personale. Franco Rolandi, Filt CGL. Sì, abbiamo grossi problemi in tutti i settori nevralgici. Abbiamo avuto risposte parziali per il personale viaggiante, ma attendiamo risposte importanti per il settore manutentivo gomma-ferro e anche per l'immissione di nuovi macchinisti. In una lunga nota i sindacati ricordano ai vertici di Tua il verbale di accordo firmato il 26 maggio scorso, quando l'azienda assunse l'impegno a realizzare e condividere un piano di sviluppo. Vogliamo che fondamentalmente la società predisponga un piano di riorganizzazione dei servizi e che passe anche attraverso un ammodernamento della flotta. Non possiamo continuare a trasportare pendolari abruzzesi su autobus che hanno una lunga vetustà e che hanno soprattutto alle spalle oltre un milione di chilometri. E poi c'è l'annosa questione della società sistema che si occupa della vendita e della distribuzione dei titoli di viaggio. Già un anno fa c'era stata prospettata la possibilità che questa società potesse essere inglobata in Tua, ma qui la realtà è un'altra perché c'è un liquidatore che invece sta andando verso un'altra direzione e sono a rischio oltre 50 posti di lavoro. I lavoratori di Tua, l'azienda regionale dei trasporti, sono pronti a scioperare. Dopo i sacrifici è necessario pensare al rilancio, dicono i sindacati che hanno presentato un lungo documento sulle questioni ancora aperte. Mariano D'Amico. Dopo i sacrifici occorre il rilancio, lo dicono i lavoratori di Tua, la società regionale unica dei trasporti. I sindacati hanno avviato le procedure di raffreddamento e conciliazione per richiamare l'attenzione di aziende e regione su questioni di masse ancora aperte, dall'insufficienza all'inefficienza del parco auto, dallo stato di abbandono di alcune sedi alla situazione delle officine, dalla mancata realizzazione di una politica per combattere l'evasione tariffaria alla carenza di personale. Franco Rolandi, Filt CGL. Sì, abbiamo grossi problemi in tutti i settori nevralgici. Abbiamo avuto risposte parziali per il personale viaggiante, ma attendiamo risposte importanti per il settore manutentivo gomma-ferro e anche per l'immissione di nuovi macchinisti. In una lunga nota i sindacati ricordano ai vertici di Tua il verbale di accordo firmato il 26 maggio scorso, quando l'azienda assunse l'impegno a realizzare e condividere un piano di sviluppo. Vogliamo che fondamentalmente la società predisponga un piano di riorganizzazione dei servizi e che passi anche attraverso un ammodernamento della flotta. Non possiamo continuare a trasportare pendolari abruzzesi su autobus che hanno una lunga vetustà e che hanno soprattutto alle spalle oltre un milione di chilometri. E poi c'è l'annosa questione della società sistema che si occupa della vendita e della distribuzione dei titoli di viaggio. Già un anno fa c'era stata prospettata la possibilità che questa società potesse essere inglobata in Tua, ma qui la realtà è un'altra perché c'è un liquidatore che invece sta andando verso un'altra direzione e sono a rischio oltre 50 posti di lavoro.